Prego signorino, prego. Tutte vere, mi chiamate. Sin da ragazzo ho amato questa torre, il Francesco. Però andavo sempre a giocare con tutti i miei amici. E allora, adoperrò anche questo strumento. Non so se lo conoscete. Questo cos'è ragazzi? C'è il bastone. Guardate, la luce ad alta. Che eccellenza, cos'è? Non vedete mai la pausa su eccellenza. Vieni di qua. Allora, un gioco con le carte, così, perché lo potete fare a casa, quando state al oratorio o su di animatore che siete. Tu vieni di qua, grazie. Ecco, una carta la porta via. Un'altra lei la porta via. Anche lei? Anche te. Scusami, una carta. Nascondila. Anche un'altra. Scegli la tessera a 40. Zepo. Quante ce n'hai? Due. Un'altra. Poi basta, eh. Quante ce n'hai? Tre. Ancora. Via. Quante ne sono? Lui le guarda tutte e ne estrapola una. Vai. Le altre carte. Le metto. Per favore, consegna le carte alla signorina. Chi ci sono? Può contare? Quante carte ci sono? Sette. Non so, un numero da una a dieci. Cinque. La quinta persona. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Lei? Sì. Stia piedi. Stia piedi. Stia piedi. Io non la conosco. Lei dice un numero tale. La signorina in piedi. Lei si chiama? Paola. Viene da? Canina. C'è l'olio buono, eh. Ci passo quando vado all'Argentaglia a fare spettacoli e non so, io non porto i cellulari. Lei ce l'ha il cellulare? Sì. Non so. Lo faccia vedere. Qual è il suo numero di cellulare? Lo può dire a tutti. Lo può dire. 391. Va bene. Per favore, lei prenda le carte così, quelle che avete preso. Così. Allora, il numero... Beh, primi tre. 391. Ce l'abbiamo pure noi ce l'ha. Poi? 351. 3. 5. 1. 3. Poi? Poi? Piccolo. 3. 5. 1. 2. 9. 2. 2. E? 2. Poi? 1. Il numero di telefono è scritto nelle carte. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 6. 6. 7. Voi ragazzi stasera avete gli amici al loro lavoro e anche al bar, dite signorina prenda una carta, memorizzatela questa carta, poi dite signorina per favore ne prenda un'altra per quale motivo? è che la signorina teneva un'altra carta, cioè il 7 di coppia quando è venuta la signorina qui si era portata un mazzo di carte purtroppo la carta che aveva pensato il 7 di coppia era 7 bene, grazie ora signorina, allora lei del marzo che mi pensa a lui, sono giù le mani signorina, io non lo so, ci sono 40 immagini, io non la conosco, lei viene da? vi tocchiare, ci passo, mi fermo qualche volta alla traccia, mi fermo dica ancora, non lo so, lui tiene queste carte, 40 carte, anzi le tenga lei, le tenga così poi dite pensa a una carta, lei ne pensa, io non la conosco, cosa ha pensato, lo dica a tutti lei sta pensando così, il 3 di denaro, ragazzi, provate, 40 carte, punta il libro sulla prima carta, digli così 3 di denaro, ti ordino, vieni su, controllo, questo è il 3 di denaro che mi ha detto tu è il 3 di denaro, si può dire, non lo so, non lo so, non lo so, io non ti conosco, guarda dentro di te, pronuncia una carta qualsiasi più forte due di bastoni, lei cosa porta? e due di bastoni non lo so, cosa è? in questo momento posso non portare? vediamo signorina, venga prima riprenda un'altra no questa l'ha presa prima lei non si vede qui sana vedete prenda una trenta fra quaranta fategliela fra l'altro ragazzi, prendete stasera il sette di coppe vieni qui e lo prendete vieni qui e lo fate diventare six il sette lo espracolate da qui quel sette di coppe che ricordi che ha preso lei lo prendete sempre ma da qui perché mischiate le carte non dovete mai guardare le carte che tenete qui c'è un mazzo perché qui non ci sono più quando le riprendete manca sempre il sette infatti lei il sette di coppe ce la sapete grazie 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 l'ultimo sono tante le carte a te non so la bocca e la bocca sono tante le carte se dici mischia mischia ancora più forte mischia meglio pensa di uno pensa di uno no no che mi chiascone dimmi di pensare nulla no mi scorda pensata te la ricordi si benissimo quaranta carte lei mi stia lei mi dice di mischia lei da pensare non so quante avete pensato una io ve le faccio vedere una il sette di spago voi prendete il sette di spago lo tenete qui signorina che cosa ha pensato più forte il tre di bastoni e qui c'è il tre di bastoni e lei l'ha pensata grazie 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 grazie